sono a modena sono in via maria montessori in questa strada sono state installate delle antenne di tipo 5g una di queste attaccata a quel palo della luce attualmente la rete 5g è in una fase di sperimentazione pre commerciale in cinque città italiane dati servizi informazioni tutto sarà connesso sarà l'internet delle cose con oggetti collegati fra loro in buona sostanza sarà la città smart e tutto passerà attraverso queste antenne il 5g è una tecnologia che permette di navigare online in mobilità in modo molto più veloce con uno scambio di dati mille volte più veloce rispetto al 4g ma che per funzionare ha bisogno di una rete capillare di antenne sul territorio una ogni 100 metri con un aumento del campo elettromagnetico di conseguenza il mondo scientifico e accademico però è diviso su questo punto e i pareri sugli effetti delle radiofrequenze a lungo termine sulla salute umana sono discordanti leggendo i commenti su facebook a uno spot televisivo trasmesso da un grande operatore di telefonia mobile in italia le persone esprimono tantissimi dubbi io ho selezionato alcuni di questi commenti perché sono centinaia questi sono solo alcuni dei commenti che ho letto sotto al post scrive un utente e cosa c'è di bello internet va più veloce la salute se ne va altrettanto rapidamente un altro utente scrive amici boicottiamo il 5g poi un altro utente ancora fareste bene a prevedere un'emologia di clienti ad una velocità direttamente proporzionale al 5g poi ancora ma sulla base di cosa pensate che il 5g possa fare male sono lunghezze d'onde elettromagnetiche che non interferiscono nemmeno lontanamente con qualsiasi processo biologico del nostro corpo poi ancora non avete chiesto il permesso a nessuno e un altro utente dice non avete mai parlato da gente di quanto può essere dannoso il famoso 5g un altro utente scrive non serva nulla il 5g non bastano queste velocità domani cambio operatore il 5g non lo voglio parliamo anche degli effetti collaterali dei 5g perché non proponete un bello spot comparativo con le conseguenze sulla salute sulla natura un altro utente scrive non ce ne può fregare di meno di andare più veloci se poi a rimetterci alla salute meditate un passo indietro prima che sia troppo tardi la tecnologia bussa le porte ma su questo punto sembra di vedere un film già visto già agli inizi del novecento gli effetti sulla salute dell'amianto erano noti come per esempio la plastica che oggi riempie il mondo forse decenni fa dovevano essere prese politiche più restrittive ora la storia sembra ripetersi per il 5g oltre agli aspetti industriali ed economici si dovrebbe seguire il principio di precauzione sulla salute per questa nuova tecnologia che porta a sviluppo ma anche tanti dubbi sui suoi effetti a lungo termine questa però è una scelta che spetta alla politica che dovrebbe essere una camera di compensazione fra l'interesse pubblico cioè quello di tutti noi e l'interesse privato rappresentato dalle aziende attive in questo settore grazie a tutti